Ciao a tutti ragazzi, sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi voglio presentare Masters of the Night, che è un gioco che vedrà la luce come Kickstarter a partire dal 14 di gennaio. E ovviamente vi lascerò il link in descrizione per andarvela a vedere con calma il Kickstarter e tutto quanto. Comunque, voi ricordatevi che il 14 di gennaio partirà il Kickstarter di questo nuovo progetto della Ares Games. È un gioco consigliato per un pubblico dai 13 anni in su, però per quello che ho visto io tranquillamente l'abbasserei anche di un paio, forse tre anni al massimo, perché è un gioco particolarmente semplice. Forse è il tema, sì, un pochino da rivedere per un pubblico troppo piccolo. Comunque, parliamo di Vampiri, parliamo di un gioco cooperativo da 1 a 5 giocatori, della durata complessiva, io penso si giri intorno al massimo 40 minuti, proprio sforando un'oretta. Ed è un titolo veramente interessante che mi ha colpito perché ha delle meccaniche che già abbiamo visto in Masters of the Galaxy, e tra l'altro è fatto sempre da loro, dagli stessi, ed è un prodotto molto interessante perché si va a toccare quella che poi piace a tutti i fan dell'ambientazione di Vampiri, o comunque Werewolf, andiamo a toccare i Vampiri che dovranno muoversi in una specie di Masquerade, o comunque stanno nascosti alla società. Un po' come abbiamo visto in tutti i film più famosi, quello più importante, beh, almeno secondo me, Intervista col Vampiro. Ed è un gioco, ve l'ho detto, molto interessante che vedrà al Kickstarter, ma premetto subito cosa molto importante, quello che vedete qui davanti è una copia preview, è una demo ed è un prototipo fatto interamente a mano, e quello che vedrete non per forza dovrà essere la versione finale che poi rivedrete sul Kickstarter, perché nel gioco non ci sono Vampiri ma ci sono token, mentre nella versione finale ci saranno proprio Vampiri, le pedine di plastica e tutto, anche il tabellone di gioco, le carte delle aree di gioco della città potrebbero subire magari restyling, colorazioni differenti, disegni, lo stesso il manuale, la stessa confezione e tutto quanto un prototipo. L'unica cosa, le regole sono quelle definitive, poi ovvio, magari con vari stretch goal potrebbero esserci delle aggiunte, però ricordatevi che quello che vi vado a mostrare oggi è un gioco interamente giocabile, se no non ci farei la recensione, però comunque i materiali che vedete all'interno, io penso che la scatola sarà bene o male a livello finale, ma i materiali all'interno sono tutta quanta roba di un prototipo fatto appunto a mano per la stampa. Unboxing, la scatola molto carina, con il disegno si vede questa famiglia di Vampiri perché voi in questo gioco completamente cooperativo, quindi almeno per ora non ci sono meccaniche di PvP, poi vedremo nella possibilità di un Kickstarter, e noi faremo parte di questa famiglia di Vampiri e ciascun giocatore potrà scegliere uno o più Vampiri. Ad esempio una partita a 5 giocatori, uno per uno, una partita da 3 giocatori potreste tenere un Vampiro per uno, in una partita da 2 giocatori potreste tenere o comunque un Vampiro a testa, che basta, comunque il gioco scala, sì forse la difficoltà si alza un pochino, però comunque scala tranquillamente, o se no prendere più di un Vampiro a testa, ed è bellino anche, vedete, tutta quanta la colorazione molto noir, e poi come dimensione insomma non è nemmeno tanto grande, soprattutto per il fatto che la roba contenuta qui dentro è pochissima perché appunto è quella di un prototipo. Apriamo! Manuale di gioco, scritto in menso preview davanti, ovviamente per ora soltanto in lingua inglese, perché lo sapete l'Ares, tutti i giochi che pubblica, sono sempre soltanto in lingua inglese, comunque vabbè ragazzi facilissimo e poi veramente ha pochissime regole. Plancette in stile prime pagine dei giornali, qua su per tenere traccia se i Vampiri sono scoperti o no, quindi più va giù più si rischia di perdere la partita, più sale e vuol dire che la Masquerade sta reggendo, e più qua sotto vediamo il numero di nemici, o per meglio dire cacciatori di Vampiri e agenti, che entreranno in gioco per attaccare i nostri Vampiri. Carte delle varie location, che andranno a comporre la mappa di gioco, sono un bel po' e ciascuna praticamente ha un'azione particolare. Personaggi, che sono i personaggi della famiglia, sono molto differenti, sono tutti Vampiri, però ragazzi sono moltissimo diversificati tra di loro, perché ognuno ha delle abilità particolari e quant'altro, quindi studiateveli bene prima di scegliere quale usare nel corso della partita. Token, con all'interno token dei Vampiri, che ricordo che nelle versioni finali ci saranno proprio le pedine dei Vampiri all'interno, cacciatori di Vampiri, agenti, Minion, che i Minion sono praticamente i civili, che lavorano al servizio dei Vampiri e quant'altro. Gocce di sangue, che sono quello che danno la possanza al Vampiro e servono per attivare, a parte per altre cose particolari, servono per attivare i poteri dei Vampiri, come appunto nel gioco di ruolo. Un po' di buste, con dei dadi a se facce, che servono o per attivare eventi particolari o soprattutto quelli rossi per fare gli attacchi e le azioni dei Vampiri. E mazzo complessivo, ce ne è un bel po' divisi in tre mazzi, numerati 1, 2, 3, le carte evento. Vi faccio vedere un po' come funziona. Qui abbiamo il tavolo da gioco, che è diviso in nove location, che sono il museo, la stazione radio, il dipartimento di polizia, la city hall, la cattedrale, l'asylum, ovviamente il manicomio, la stazione dei treni, il nightclub e il Luna Park. In qualsiasi setup di qualsiasi partita, perché potete scegliere difficoltà facile, media o difficile, praticamente cambiano soltanto alla fin fine il numero di eventi che andate a pescare, dovete mettere qui, stiamo facendo, una partita a quattro giocatori e vedete abbiamo messo i token dei quattro Vampiri divisi per colore. Là dove abbiamo un Vampiro più picchiatore rispetto a altri Vampiri invece, ad esempio lei la ragazzina è quella che usa i poteri mentali. E nel setup iniziale tutti i Vampiri partano alla Railway Station, alla stazione, perché sono appena arrivati. Sono appena arrivati in questa nuova città che devono conquistare o da cui saranno conquistati e distrutti, perché vi ricordo nel gioco completamente cooperativo vi daranno la caccia agenti governativi e soprattutto cacciatori secolari di Vampiri, come vedete qui nel disegno. E ciascuna delle location è visitabile, ovviamente tutte quante, e ciascuna delle location ha un'azione, come vedete, descritta sopra, che è quello poi le potete andare a vedere leggerita nel manuale. Comunque spostandosi nelle varie zone si possono fare le varie azioni che ci sono elencate, che potranno comportare un tiro di dado o far alzare il tracker che vi faccio vedere dopo della rivelazione dei Vampiri, della caccia dei Vampiri o quant'altro. Però la cosa principale è che dovete sempre vedere i disegni che ci sono sopra, perché come in questo token qui bello grosso che rappresenta un calice, da questa parte qui, vedete, col simbolo del sole in bella vista si usa durante il giorno, il daytime, e da quest'altra parte il nighttime. Questo è un token che dovete dare al giocatore, o per meglio dire, al vampiro di quel giocatore lì, che si muoverà primo per turno. E quando tutte le azioni del giorno saranno fatte, questo dovrà essere girato. E vedete, in ogni zona c'è l'icona del giorno e della notte, quindi vi fa capire quando potete utilizzare l'azione che è lì descritta. Ad esempio, per fare queste azioni qua giù, di giorno o di notte. Magari nella city hall solo di notte. Magari, ad esempio, alla stazione di polizia solo di giorno, perché magari di notte è chiusa. E, cosa più importante ancora, all'inizio della fase del giorno, tutte, 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 tutte le zone col simbolo del giorno devono essere attivate. Decide il giocatore che ha il token del primo giocatore, o meglio per dire, del primo vampiro che si muoverà, quel giocatore lì deciderà come attivarla in che successione. Basta che tutte le zone che hanno il simbolo del sole, quindi che devono essere giocate nel daytime, siano giocate. Quindi, che ne so, prima faccio l'azione di questa, completa tutta, poi faccio l'azione di questa, e ovviamente la devi risolvere finché non è finita. Poi devono essere risolte tutte per ogni turno. E durante il giorno ci sono praticamente queste fasi che devono essere attivate, che sono soprattutto andare a vedere le azioni che sono qui e risolverle una dopo l'altra. Prima cosa da fare all'inizio del giorno, si passa questo token in senso orario al giocatore successivo. Così che tutti possono essere il primo player, turno dopo turno. Poi, qua su in cima, abbiamo questo ritaglio di giornale che vedete. Qui c'è scritto 4 vampiri stanno insidiando le strade per un setup da 4 giocatori. Potete usarne anche altri nel caso giocate in 2, dovete prendere quello che c'è scritto 2 giocatori, perché cambiano anche gli spawn dei nemici che arriveranno. Questo qui è il token, si chiama il Vile Token, ed è praticamente l'interesse che susciterete in città con le vostre azioni. Più questo parte sempre da 6, che è il valore massimo, più questo andrà verso il basso, più nemici vi daranno la caccia e soprattutto quando arriverà sull'1 la partita sarà finita. Perché i vampiri sono stati tutti quanti cacciati, distrutti e soprattutto i cacciatori di vampiri e gli agenti hanno vinto. Quindi lo dovete sempre tenere abbastanza in alto, anche per evitare che iniziano a spawnare particolarmente tanti mostri e cacciatori. Poi da questa parte abbiamo il mazzo degli eventi, che sono divisi in eventi fase 1, 2 e 3 e sono impilati. E mano a mano, se ne pesca uno a turno, e mano a mano che si va avanti ovviamente diventano sempre più truci. Quindi dobbiamo cercare di risolvere la partita prima che questo mazzo qui finisca, perché quando il mazzo degli eventi sarà finito la partita è persa. Perché praticamente i vampiri sono stati beccati o comunque hanno fatto passare troppo tempo e le ricerche sono arrivate a termine. E da questa parte ci sono i mazzi delle reliquie, che le reliquie sono un'azione che si possono prendere nel museo e le reliquie sono oggetti ovviamente molto potenti, che possono essere singolo uso oppure no, rimangono in gioco, e sono quelle che danno la possanza al vampiro e le danno particolarmente forza. Quindi tutte le carte reliquia potranno essere pescate nella zona del museo e avranno delle capacità molto particolari. Si passa successivamente a pescare il primo evento, durante il giorno i vampiri non agiscono. I vampiri agiscono di notte, però durante il giorno i vampiri sono presenti, anche se sono molto più deboli. Altra cosa, all'inizio del gioco per ciascun vampiro dovete tirare due dadi. Ora in questa edizione che ci hanno mandato i dadi, come vedete, sono sia bianchi che rossi. È sempre la stessa cosa, non cambia assolutamente niente. Comunque, due dadi per ogni vampiro che devono essere tirati, quindi nel nostro caso abbiamo quattro vampiri, quindi tirerò otto dadi. Ne tiro. Facciamo così, quattro rossi e quattro bianchi. Quindi tireremmo dei dadi, che ora ovviamente non vi faccio vedere il tiro, però ve li metto accanto. E poi li andiamo a disporre tutti quanti così accanto col tiro che è venuto. Non devono essere modificati, eh. Il tiro che è uscito li dovete lasciare qui accanto. E questa è la riserva dei dadi. Poi ovviamente ci sono tantissimi altri token, tipo questi, che sono la riserva di sangue, che vi faccio vedere durante la fase di notte. E poi ci sono vari token come questi, che sono i cacciatori di vampiri scoperti o coperti dall'altra parte. E poi ovviamente tutti i minion che possono essere utilizzati per darci manforte sul campo di battaglia. Comunque la cosa che ci interessano a noi sono questi dadi, che compongono la riserva e la possanza che i vampiri avranno per combattere in quel turno. Poi successivamente si pesca la prima carta evento in cima. Prima di tutto si vanno a posizionare i mostri che sono usciti, che vedete qua giù, che sono due blu e uno rosso. Prima di tutto si vanno a posizionare i mostri che sono venuti fuori. Successivamente, dopo averli posizionati, si va direttamente a fare l'evento che c'è scritto sotto. Nella croce rossa, vedete, c'è la griglia, no? Per come è la città. Quindi dice la croce rossa, qua giù, dovete andarlo a posizionare nella radio station. Ok? Quindi il primo rosso nella radio station. Quindi, cosa ci dice il nostro tracciato qua su? Il nostro tracciato, vedete che nelle prime tre caselle, dobbiamo andare a vedere i mostri da qui. Quando questo andrà più in basso, arriveranno più mostri. Comunque, visto che la partita è appena iniziata, vediamo, rosso cosa ci dice? Più due, in che zona? Radio station. Quindi noi prendiamo due nemici coperti, metteteli così col cappuccio, e li mettiamo nella radio station. Poi, successivamente, ci dice però, anche nel Luna Park e nella stazione dei treni, e ci è andata male. Nel Luna Park, quanti ce ne devo mettere? Uno. Nella stazione dei treni, quanti ce ne devo mettere? Uno. Quindi andiamo a prenderne altri, e ovviamente ne mettiamo uno al City Park, qui, e uno nella stazione dei treni. Ogni qualvolta un nemico viene messo in una zona dove è presente, durante un evento ovviamente di giorno, dove è presente un token minion, o c'è anche soltanto uno o più vampiri che non sono drained, ovvero prosciugati. Un vampiro diventa prosciugato quando non ha più gocce di sangue da utilizzare per le proprie abilità speciali. Quindi, in questo caso qui, la regola vale. È stato messo in un punto di spawn, o se ci si muovono per varie regole, dove ci sono dei vampiri, o ci sarebbe potuto essere anche un minion. In quel caso lì, se il cacciatore dei vampiri ha la fortuna, sfiga per noi, di finire in una zona di giorno abitata da dei vampiri, quassù il tracker del Veil si abbassa di 1, e da 6 scala 5. Perché praticamente è arrivato nel posto giusto e sta indagando su di noi. E quindi, magari, ha beccato anche la zona dove noi realmente siamo, non siamo riusciti a nasconderci, perché l'avete visto, è nascosto lui in mezzo alla folla, e quindi avvia le indagini e ci ha fatto scendere di 1 il punteggio. Ricordate che più che scende, più nemici arriveranno, quando arriva 1 e lo supera, l'ultimo turno, avete perso completamente la partita. E questa è la fase di giorno. Ricordatevi che, di giorno, se ci sono 3 o più agenti nella stessa casella con dei vampiri, avviene un combattimento. Però ce ne devono essere almeno 3, quindi lui da solo non potrà fare niente. Nel caso ce ne fossero altri, per un evento, ve lo dite, è sempre per l'evento che succedono queste cose, sulla casella avverrà subito un incontro, perché praticamente questi 3 cacciatori di vampiri hanno adesso abbastanza possanza e forza da dare alla caccia ai vampiri. Ah, fatto il posizionamento degli NPC, dei mostri, dei mob, si risolve l'evento che c'è scritto sotto. Quindi, prima posizionateli e fate le azioni, magari tutto quello che c'è da fare, e poi dopo fate l'evento. Quindi, una volta fatta, questa carta va via. Non la rimescolate, perché quando il mazzo dell'evento finirà, fate una pila degli scarti qui accanto, la partita sarà persa. Quando avviene un combattimento, si vanno a tirare i dadi, dadi che abbiamo messo da parte qua giù in fondo. Con la differenza che, se il combattimento avviene durante il giorno, il vampiro può scegliere soltanto i valori più bassi che sono indicati qui. Se invece il combattimento avviene durante la notte, il vampiro può scegliere tutti quelli che vuole, ovviamente pescherà da quelli più alti. Perché il vampiro di giorno è molto più debole rispetto alla notte, quindi comunque trovarlo di giorno per dargli la caccia è il momento buono per dargli una pugnalata nel cuore. Quindi comunque di giorno, in caso succedesse un combattimento, ora potrebbe scegliere, che ne so, l'uno, l'uno, il tre e poi dopo il quattro. Mentre invece un combattimento di notte potrebbe scegliere i valori più alti. E il manuale ci dice che il vampiro adesso, sia nella fase di combattimento che di giorno che di notte, può fare un'azione. Se loro sono in tre, come vi ho detto prima, e possano attaccarlo, come prima cosa si devono rivelare. Perché ovviamente per attaccare devono rivelarsi, tirando giù il cappuccio li girate da quell'altro lato e adesso possano attaccare il vampiro. Si è chiaro che attaccheranno un solo vampiro, non li attaccheranno tutti quanti, anche se presenti nella stessa zona. Però io per semplificare si fa conto che è un round un pochino più avanzato e quindi vanno ad attaccare lui. Quindi ora avviene un combattimento. Il giocatore, nel caso abbia dei token alleati, dei minion, che poi dopo vi faccio vedere come si prendono, può decidere. Ovviamente devono essere minion nella stessa zona e non in altre, però per ogni minion che scarta, quindi che va a scartare e distruggere, può allevare direttamente uno degli assalitori. Quindi per ogni minion va via un assalitore. Mettiamo caso che lui non abbia minion, dovrà andare a fare un combattimento e in questo caso dovrà scegliere un dado dalla riserva per ciascuno dei nemici che sono in campo. Quindi in questo caso tre. Nel caso il combattimento fosse di giorno, purtroppo dovrebbe scegliere l'uno, l'uno e il tre. Nel caso il combattimento invece fosse stato di notte, avrebbe dovuto scegliere il sei, il cinque e il cinque. La differenza è, con un risultato di uno o due, l'agente rimane nel distretto e il vampiro perde uno di sangue. Quindi con questo uno e quest'altro uno, purtroppo non è stato possibile uccidere nessun agente e anzi il vampiro ha perso uno di sangue. Invece con dei risultati sul dado di tre o quattro dovete rimuovere un agente, quindi uno degli agenti è stato ucciso, però ovviamente perdete sempre sangue. Con un risultato di cinque o sei, quindi risultati più alti qua giù sui dadi, rimuovete direttamente l'agente. Quindi da uno a quattro comunque di cose, anche se avete ammazzato l'agente, ci rimettete un punto sangue perché vanno ferito o avete usato dei poteri particolari. Invece se fate cinque o sei sui dadi, l'agente è morto e non avete sprecato nessun punto sangue. Queste sono le schede dei personaggi, dei vampiri. Qui accanto c'è scritto il numero di punti che potete spendere per fare le varie azioni. Come vedete qui accanto ci sono dei numerini piccoli piccoli che vi fanno vedere a seconda dell'azione che c'è scritta accanto quanti punti azioni dovrete spendere. Perché all'inizio della notte i vampiri ovviamente agiscano partendo sempre dal giocatore che ha il token, questo qui del primo giocatore, che ovviamente nel caso della notte deve essere girato dall'altro lato, e poi si va in senso orario. Un vampiro fa due azioni, poi passa al vampiro successivo e quant'altro. Questo è un sigillo che vi faccio vedere dopo. Questo è un indicatore, ora vi faccio vedere un pochino di spazio accanto alla scheda di Agnesca, e praticamente questo indicatore è la kill count. Per ogni volta che farete una kill o un'uccisione con il vostro vampiro lo dovrete abbassare, perché vedete ci sono vari livelli. E queste sono varie azioni che possono essere sbloccate ma solo quando raggiungete un tot di kill count. Nella fattispecie quando ammazzate i cacciatori di vampiri che vi ho fatto vedere dopo, quindi così sono coperti, li scoprite e li ammazzate, magari la kill count scende a due e quindi come vedete qui guadagna una reliquia. Voi cosa dovete fare? Per guadagnare una reliquia dovete andare nella zona del museo come vi ho fatto vedere e pescate direttamente dal mazzo delle reliquie. Poi per un'altra kill va giù a tre, a quattro guadagna l'abilità Wild Hunt e si va al giù. Poi in fondo ci sono le abilità del personaggio, quindi cosa lo rende potente e cosa no andate a leggerlo direttamente laggiù in fondo. E qui ci sono tutti quanti le azioni che potrà fare sbloccandole con le kill count e il costo accanto. Poi le azioni nella fattispecie sono movimento, vi spostate da un distretto all'altro, quindi da una zona della mappa all'altra. All'inizio di ciascuna fase i vampiri, soprattutto all'inizio del gioco, hanno dei punti sangue che potrebbero essere due o più per ciascun vampiro. Ricordo che se un vampiro per qualsiasi ragione, perché usa abilità, perché viene picchiato dai cacciatori di vampiri, qualsiasi ragione, dovesse iniziare il turno di notte Drained, ovvero senza nemmeno un punto sangue e assetato, appena toccherà lui il suo personaggio e si attiverà, prenderà direttamente un punto sangue, subito. Però praticamente avrà finito il turno, non potrà fare assolutamente niente e il veil sul tracciato scenderà di uno. Quindi su questo tracciato qua giù, che avete visto all'inizio, il token del veil andrà a scendere. Quindi state sempre bene attenti che il vostro vampiro non deve mai, mai, mai rimanere senza punti sangue, perché i punti sangue sono la linfa vitale che muove il vampiro. Quindi prima azione che può fare è che gli costa un puntazione e un movimento. Un'altra azione che può fare e gli costa sempre un'azione è quella di rivelare un cacciatore di vampiri, un vampire hunter, che si trova nella sua stessa location. Quindi nel caso ce ne sia uno coperto, lo scopre e lo può attaccare. Di notte potete attaccare qualsiasi tipo di cacciatore, che sia solo o che sia un gruppo. Ve l'ho detto, più ce ne sono, più dadi semplicemente tirate. Un'altra azione che le costa un action point è quella di combattere, quindi magari con la prima azione lo rivelo. Con la seconda azione lo attacco. E al solito devo andare a prendere un dado, però visto che a notte vado a scegliere il dado più alto di quelli che ho tirato all'inizio. Quindi 6. Ricordatevi i dadi non si tirano fra un o nell'altro, prima dovete consumare tutta la riserva. E quando non ce ne saranno più, e voi ne avete bisogno ovviamente, ritirate tutti i dadi e li riposizionate. Comunque questa volta con un 6 vi ricordate la regola? Mi diceva che io a lui l'ammazzo, alzo la kill count e non subisco nessun punto sangue, perché con 6 lo uccidevo e non prendevo botta indietro. Oppure con due punti azione potete reclutare un minion, potete reclutare un minion e metterlo nella zona dove vi trovate. I minion sono questi qua, questi token che vi ho fatto vedere prima. Li reclutate, però vi chiede tutte e due punti azione e li dovete mettere nell'esatta location dove siete voi, dove l'avete reclutati. E reclutando un minion alzate di 1 il contatore del veil, questo qui. Quindi magari se era 4 lo rialzate a 5, se era 3 lo rialzate a 4 e così via. Questa è l'azione di reclutare. Potete usare gli effetti della notte di un distretto, quindi le abilità che ci sono scritte sulla carta, come vi ho detto prima, solo di notte. E andate a leggere cosa c'è scritto. Magari vi costa punti azione, magari non ve ne costa, perché ci sono alcuni distretti che non vi chiedono punti azione. Usare le vostre abilità del sangue, che sono quelle scritte in fondo, praticamente le abilità del personaggio. E non chiede punti azione, quindi non dovete sprecare una delle due, ne potete usare quante ne volete, però dovete sprecare blood point, che ci sono scritte in fondo. Poi c'è l'azione della caccia, che praticamente l'azione della caccia vi costa un punto azione, però prendete direttamente un blood token. Un'altra azione però, questa gratuita, che non vi costa niente, scambiarvi fra giocatori le reliquie. Quindi magari se siete nella stessa location passate il golem che avete preso a un altro giocatore. Iniziare una wild hunt, che è una caccia selvaggia, che vi costerà un punto azione delle due che avete, però farà scendere il wild count di uno, quindi quello lo dovete far scendere di uno, ma vi dà automaticamente quattro punti kill. Usare le abilità oscure, che vi permette di abbassare, ancora una volta, perdete, quindi state attenti, perché usando le abilità oscure la gente che intorno a voi se ne rende conto che avete qualcosa in più di una persona normale. Però, usando le abilità oscure, fate scendere il contatore del veil, però potete usare le abilità, appunto, oscure del vostro personaggio. E questo si prende quando avete, almeno, come vedete qua giù, quando avete almeno 6 sul kill count. Che nel suo caso, della ragazzina, è Hollow Call, l'abilità che poi vedete sotto. Oppure potete sigillare una zona, basta che non ci siano nemici in quella zona lì, e che in quella zona lì ci sia già stato messo precedentemente un minion. Sigillare quella zona vuol dire che voi l'andrete a chiudere, e chiederà un'azione e un minion, vuol dire che l'andrete a chiudere, quindi su quella zona metterete il dread sigill, che è questo qui grosso che vedete sulla scheda, la mettete su quel tile, su quella zona, e quella zona è bloccata. Oppure, l'azione finale, ma che vedete la potete fare qua giù soltanto quando arriverete a 9 kill, quindi le abilità si sbloccano lentamente, anche perché se no, giustamente, il gioco finirebbe subito, uno andrebbe a posizionarle. Potete mettere, quando avrete messo tutti i dread sigill che avete, quindi nel caso di una partita a 4, quando sarete andati a posizionare tutti e 4 i sigilli dei 4 colori di vampiri che state utilizzando. Quando avrete posizionato tutti e 4 i sigilli, che vi ricordo con la regola di prima, ci dovete avere livello 9, intanto a voglia arrivarci, e poi non ci devono essere nemici in un'area, prima la dovete bonificare, non devono essere finite le carte evento, perché se no avete perso la partita e ci dovete avere un minion, quindi non è la cosa più semplice da fare. Quando avrete messo tutti e 4 i sigilli in 4 varie location, vi dovete radunare tutti e quanti per fare il Blood Moon Ritual, quindi tutti quanti i vostri vampiri si dovranno radunare in un'unica location, quindi tutti quanti insieme, non potete essere divisi per la mappa. Vi dovete radunare tutti e 4 nello stesso punto per iniziare il rituale. Anche qui, una volta radunati tutti nello stesso punto, nel caso ci fossero dei nemici, dovete prima bonificare l'area e distruggerli, perché se no ovviamente il rituale verrebbe interrotto. Se riuscite a fare questa cosa, quindi siete riusciti a mettere i 4 sigilli dei vostri vampiri che bloccano le zone, bonificare l'area, ritrovarvi tutti nella stessa azione di notte e fare il Blood Moon Ritual, la partita sarà finita e l'avrete vinta. Quindi, ben o male ragazzi, queste sono le regole del gioco e ve l'ho detto in che caso si possono perdere. Comunque nella fattispecie si possono perdere se il Blood Moon Ritual viene interrotto, se le carte e vento, che sono queste qua giù, il mazzo, dovesse finire, oppure se il contatore sul vile dovesse arrivare a zero. Ragazzi, ancora una volta, queste dovrebbero essere le regole finali del gioco, però ripeto che quello che mi è arrivato è un prototipo, quindi poi vedremo tutti insieme, anche io sicuramente ci farò un altro video più dettagliato, il Kickstarter, se nel caso apporterà delle modifiche nuove o cose del genere. Comunque, bene o male, le regole sono queste. In conclusione, queste sono le regole del gioco che sono poche, semplici e veloci ed è un gioco di conquista dei territori, ma nemmeno tanto conquista dei territori, perché poi la fin fine i territori non li conquisti, tutt'al più li blocchi con il zigillo per fare poi il rituale alla fine. Però non è tanto un gioco di conquista dei territori, quando l'ho vista all'inizio mi veniva in mente appunto o Master of the Galaxy o anche dell'Asmoni, mi veniva in mente Kikess, per farvi un esempio. Questo no, questo è più muoversi nella... cioè utilizzare i punti che avete al meglio per attivare il rituale. Ed è anche una cosa bellina perché voi siete lì per assoggettare la città al vostro potere, farli diventare delle specie di zombie al vostro servizio, the goal, e quale meglio maniera che fare questo rituale dei vampiri con cui, praticamente una volta fatto questo rituale, tutti quelli presenti nella città diventeranno dei buratini al vostro servizio. E alla fin fine non è tanto un fatto di conquista delle zone, è quanto muoversi nelle zone precise e nella maniera più veloce e logisticamente corretta possibile per guadagnare le varie azioni più punti minion, punti sangue e quant'altro, per arrivare poi a attivare questo rituale. Quindi è tutta una corsa ad arrivarci nel minor tempo possibile, anche perché se finisce il mazzo degli eventi avete perso, ma arrivarci anche in piedi e arrivarci soprattutto calcolando bene dove attivare il rituale, perché se arrivate a attivare il rituale in una zona e sul vile count siamo a livello 2-1 e sponono un casino di mostri con la carta evento del giorno e quella zona magari la cattedrale dove vi siete ritrovati e bloccate ci sono 5, 6, 7 minion, come fate voi? Cioè capito? Dovete prima ammazzarli tutti quanti, però non li puoi ammazzare di giorno, li devi ammazzare di notte e per ammazzare di notte ti deve venire il tiro di da di buono. Quindi non è facile come gioco, va calcolato a modo e secondo me bisogna dividersi i lavori. Qualche vampiro intanto si potenzia e qualcuno intanto inizia a tagliare un po' le gambe a questi cacciatori di vampiri. Molto interessante, vi dico la verità, non vedo l'ora di vederlo con la versione finale, anche perché sono curioso di vedere come saranno i vampiri fatti come pedine. Comunque come tipo di gioco ha una cosa che ho dimenticato all'inizio, una cavolata tanto. Quando il vampiro è drained, quindi è senza sangue, che vi ho detto perde il turno durante la notte, lo dovete girare dal lato grigio. È una cavolata così per ricordarselo, non serve nemmeno. Però sono curioso di vedere come lo faranno in pedina, magari faranno la pedina normale, bello vigorosa e la pedina tutta accasciata, quando magari con i tratti della bestia, quando è stanco e senza sangue. Quindi se le devo dare un voto, però ripeto, do un voto ragazzi al prototipo, per quanto è regolamento, penso che sia praticamente la versione finale, anche per come impaginate e tutto. Però se devo dare un voto al prototipo, assolutamente gli do un 9- perché mi piace molto come idea ed è uno di quei giochi veloci che si intavola velocemente. Poi full cooperative, non c'hai da stare con l'ansia di litigare con qualcuno perché ce l'è contro. Secondo me è molto divertente, molto cooperativo, però mi piace tanto come idea, però se non gli ho dato di più è perché voglio vedere la versione finale del Kickstarter. Quindi ne riparleremo sicuramente, poi ci farò un gameplay insieme a mia moglie e colgo l'occasione per ringraziare Lares Games. Ragazzi, grazie, grazie, grazie per come mi state trattando veramente finora con i guanti e grazie di cuore per quello che avete fatto per me e per il canale finora. È un onore collaborare con voi e niente ragazzi, ve l'ho detto, il 14 di gennaio uscirà il Kickstarter, quindi ve lo farò presente anche sui social. Dateci un'occhiata perché secondo me è uno di quei giochi veramente interessanti e da portare a casa, secondo me avrà un bel successo. Poi vedremo insomma direttamente in campagna. Ragazzi, primo link in descrizione del Kickstarter e più tutti quanti i nostri social. Ciao ragazzi, alla prossima!